Buonasera a tutti. 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 Quindi il tuo nome d'arte è Brad Pitto. Esatto. Chiedi così i tuoi Morales. Sì, ora sì. Certo. Senti, vogliamo spiegare allora cos'è un Morales. Intanto da dove nasce questa passione? Perché da piccolo credo che tu sia appassionato, giusto? No, per niente. Da poco? È nato tutto per scherzo. E da quanto tempo? Allora, il primo stencil l'ho fatto nel 2011. 2011, quindi da... Fu Mario Mondi, ero appassionato di politica. Avevo creato una pagina, però non mi vedevo ascoltato. Quindi studiai uno stencil con la faccia di Mario Mondi, con scritto lo stato uccide. E diciamo che come sfogo l'ho fatto in qualche cassonetto, in giro, per dare un messaggio. Anche chi non mi voleva ascoltare, attraverso quello stencil mi doveva ascoltare per forza. E quindi... Però non sono partito per fare l'artista. Il mio era un messaggio. Un messaggio. Quindi per te era solo una forma di protesta? Una forma di protesta. Di protesta. E quindi come nasce la passione? La passione nasce attraverso un'amica, che a un certo punto mi chiede un quadro, una tela. Io non ne avevo mai fatto, però mi fa, visto che tu fai questi stencil, prova a farmi una tela. E quindi mi sono applicato. Sono riuscito, direi anche abbastanza bene, a fare la mia prima tela. E quindi da lì ho cominciato a cercare le tecniche, cercare immagini su YouTube, vari video. E piano piano ho cominciato ad approfondire... Quindi sei un'autoridatta, diciamo, della... Sì, 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 tutto... Anzi, non sapevo nemmeno che esisteva un'arte basata sullo stencil. Ecco, vogliamo spiegare anzitutto cosa è questo stencil. Lo stencil praticamente è una fotocopia stampata, intagliata, poi poggiata sul muro e quando io gli passo il colore sopra lo stencil rimane l'immagine che io ho intagliato. Poi ci sono stencil un po' più complessi che va a graduazioni di colore e io in base alla graduazione di colore creo vari stencil e sovrapposti l'uno all'altro esce fuori un viso, il disegno che... Poi, diciamo, però la tua... il murales diventa la tua caratteristica più importante, giusto? Il murales, come nasce l'idea del murales invece? Il murales è nato... il mio primo murales è stato quello di Falcone, di Borsellino, scusate. Quella, la villa comuna, il primo in assoluto che hai fatto? Il primo in assoluto. Mi contattò un membro dell'associazione Festolab, come io pubblicavo i miei lavori su Facebook. E quindi, notando che io riuscivo a fare queste cose, mi ha chiesto un murales. Io non ne avevo mai fatto, io l'ho detto che non ero esperto in questa tecnica. Lui mi fa, tranquillo, provaci. E quindi, da là ho detto, vabbè, quello che faccio in piccolo lo devo fare molto più in grande. E da là ho cominciato a cercare... Praticamente, come creo un murales? Io cerco una foto, il soggetto che voglio raffigurare sul muro. Lo lavoro al computer, attraverso un programma di grafica. Attraverso quel programma di grafica lo trasformo in vari colori distinti e separati, che io posso intagliare. E poi, attraverso quell'intaglio di quei vari colori, riesco a riportare l'immagine sul muro. E come primo murales è venuto bene Borsellino, giusto? Sì, diciamo che è stato un successo. Io non me l'aspettavo, sinceramente. Il sindaco, le scuole, la TV locale. Il soggetto era importante, Paolo Borsellino. Vedere la prima volta che ad Adano, insomma, alla villa, appariva un'immagine così colorata sui muri del Duca di Mister Bianco, ha avuto successo, è stata apprezzata, tanto che poi il muro si è arricchito di altri soggetti. Subito dopo hai fatto Falcone. Falcone e poi Peppino Impastato. Da lì sono stato notato da un organizzatore di street art di Caltagirone e mi ha invitato nel suo evento artistico. Ah, quindi Caltagirone nasce dopo? Nasce subito, poco dopo il murales alla villa. Quindi io mi sono ritrovato immerso in un mondo che non conoscevo. E quindi da lì, gasatissimo, ho preparato. Sì, perché a Caltagirone c'è un evento importante di street art, vero? Sì, c'è un organizzatore chiamato, si chiama Demetrio Di Grado, lui anche lui è un artista di collage. Lui praticamente organizza vari eventi, riqualifica magari qualche quartiere più degradato, oppure qualche muro spoglio. Quindi siccome ha varie conoscenze organizza questi eventi. Quindi tu sei andato a Caltagirone, su un muro c'è un tuo grande murales, la donna con, lo descriviamo questo volto, questa donna con gli occhi abbassati, chi è? Questa donna praticamente di fronte aveva, c'era un bellissimo panorama. E quindi ho voluto raffigurare quella donna in maniera che davanti a quel panorama chiudesse gli occhi e pensasse la profondità di quella bellezza del panorama. Caltagirone insomma abbiamo visto che poi ti hanno intervistato anche tv locali, si è conosciuto nell'ambito di quegli eventi. Anche perché ho dipinto anche nei dintorni, tipo Gran Michele, San Michele di Ganzaria, quindi sono abbastanza attivo da quelle parti. Parliamo di San Michele di Ganzaria perché hai fatto una Vanella Street, mi pare che si intitolava. Quella è Valverde. Ah Valverde. Quando hai fatto il murales di Trambe dove è stato? San Michele di Ganzaria. San Michele di Ganzaria hai dipinto, hai fatto un murales di Trambe, lo hai rappresentato come il re di denari, la matta giusto? Sì, la matta, con il doppio senso, appunto un matto, la matta. E appunto descriviamo un po' questo. Era l'epoca dove c'era stato il G8 a Tormino. Ah ecco il tuo G8 l'hai rappresentato così. E quindi ho voluto rappresentare Trump, re di denari, anche perché si sa che è un personaggio abbastanza ricco e potente, e quindi l'ho voluto raffigurare sotto forma di re di denari in maniera sarcastica. Invece per quanto riguarda Valverde, Vanella Street, di altre tue opere importanti. Sì, a Vanella Street Art, organizzato dal vice sindaco, ex vice sindaco Luigi Torrisi, ha organizzato questo evento invitando lo stesso organizzatore dei Silos a Catania. L'evento si chiamava Emergency Festival, c'erano due artisti di fama mondiale, una polacca e un americano. Quell'americano ha dipinto la scuola di Valverde, mentre la polacca ha dipinto un palazzo sempre di Valverde. Noi artisti un po' più di nicchia abbiamo riempito, appunto si chiamava Vanella Street Art, perché è una via, la via più importante di Valverde, ricoperta di murales. Io ho portato la tematica, era all'epoca c'era la guerra in Siria, uno degli attacchi, dei soliti attacchi in Siria, e quindi io ho voluto raffigurare il viso di un bambino triste e dietro di lui la città dove vive è distrutta. Lasciando magari pensare che non fosse giusto quello che stava succedendo. Insomma sono immagini molto grandi che aiutano a fare riflettere di più, perché è quasi vedere una fotografia, è quasi vedere un grande muro con un'espressione che viene moltiplicata per mille volte, quindi la riflessione è quasi d'obbligo su un'immagine che ti invita sicuramente a pensare e a riflettere su argomenti spesso molto importanti. Anche a Biancavilla c'è un tuo murales lungo il muro del cimitero, il tema era il razzismo mi pare. Esatto, il razzismo anche perché all'epoca sempre gli sbarchi in Sicilia, ho voluto lasciare un messaggio alla gente di Biancavilla lasciando pensare che quella è gente disperata. Andiamo via noi all'estero e abbiamo tutto, immaginiamoci loro che non hanno nemmeno l'acqua potabile, quindi ho voluto affrontare questa tematica un po' più toccante. ho raffigurato una bimba di colore, una bimba bianca e due mani che si sfiorano, una più scura appunto, una mano di colore e una bianca. Temi che hai toccato spesso, ricordiamo anche il tuo lavoro alla Sironido Comunale di Adano. Ilan, il bimbo siriano che è stato trovato a faccia in giù sulla spiaggia. Quindi quei palloncini li hai fatti tu sul muro della Sironido? Sì, sì, sì. Ho voluto abbellire un po' e renderlo un po' più piacevole. Ho visto che hai fatto, lasci il tuo segno anche fuori la periferia urbana, a Monti Intraleo, in una casetta, credo abbandonata, credo in un cassolare così, non rudere, c'è la tua impronta che abbiamo visto, che immagine era? Allora, quello diciamo che ho voluto riciclare un murales, è un murales che ho fatto a Caltagirone, una bimba africana, con varie collanine, perline, e l'ho raffigurata, l'ho lasciato, ho voluto abbellire, piano piano cercherò qualche casolare abbandonato, anche se si cerca in giro qualche mio murales c'è anche nascosto. Nascosto dove? Verso Monti Intraleo, in qualche casa abbandonata dentro, qualche stanza, c'è una Marilyn Monroe, un viso, un viso di un bambino, quando diciamo non ho nulla da fare, mi vado a spogare un po' lì sopra. Ok, quindi vai nelle parti dove non c'è bisogno di chiedere autorizzazione. Esatto, sono praticamente case distrutte, abbandonate. Perché per affari morali soccorre l'autorizzazione, giusto? Non è che tu te la pensi un giorno e vai... Al Ducanemista Bianco ovviamente hai dovuto chiedere l'autorizzazione, anche in altre, al Caltagirone... Quello di Giovanni Petronio Russo ho chiesto l'autorizzazione al sindaco, e quello di Carmelo Salanitro l'ho chiesta al padrone... Al privato. Al privato. Poi dipende, ad esempio a Librino abbiamo dipinto illegalmente. A Catania, sì. A Catania. Perché tutto rientrava nell'ambito di una protesta che era stata organizzata a Librino per invitare le istituzioni a direnterle... A interessarsi poco di più di quel quartiere. E quindi la vostra protesta è stata quella di fare i murales. Esatto. Per attirare l'attenzione... Noi arriviamo dove le amministrazioni non possono, non vogliono arrivare. E quindi è stato un segno di protesta, nel senso che voi non vi interessate al quartiere, noi non vi chiediamo il permesso per abbellire il quartiere. E quindi uno è stato un segno forte. Certo. Senti, tu dici... Per me è importante fare questi murales, queste opere all'esterno perché lo scenario, perché la città diventa museo all'aperto e quindi tutti possono ammirare la mia arte all'interno, in un museo, in una casa privata, in un locale privato, diciamo, cioè chiuso. In bocchi potrebbero vedere le mie opere, giusto? Esatto. Preferisco farle in giro perché anche a chi non è interessato di arte automaticamente la mostro attraverso il murales. La galleria, sì, ci può stare ogni tanto, per i più appassionati, magari, ma sostanzialmente preferisco farli in strada. Perché così l'arte appartiene a tutti. Appartiene a tutti, esatto. Voi o non voi la devi vedere, insomma, uno che passa con la macchina si trova davanti a un grande muro, quindi sei costretto a vederla. Sei costretto a vederla. E quindi aumenta anche, diciamo, il pubblico. Senti, andiamo in zona Cappellone, via Fratelli Cervi. Il murales di Giovanni Petronio Russo, che è stato davvero molto apprezzato, hai preso lì un angolo di quella strada. Però parliamo di questo, perché ho notato, ho visto su Facebook, che alla fine, insomma, c'è stata una festicciola, giusto? Gli abitanti del quartiere avevano mangiato i dolcini, e poi ho letto anche una cosa che... Purtroppo l'ho dimenticata, la volevo portare. Vabbè, l'abbiamo preso noi da Facebook. È stata una soddisfazione grandissima. Infatti c'erano gli abitanti del quartiere che ti dicevano grazie, perché con la tua alta hai riqualificato il nostro quartiere, giusto? Esatto. E soprattutto ho ricordato una persona che per me dovrebbe essere conosciuto massicciamente ad Adrano, perché Giovanni Petronio Russo in quell'epoca, stiamo parlando di 1870, quello era il periodo dove molti altri invendori, parliamo di, ad esempio, Newton, Nikola Tesla, poco dopo, è stato uno... c'è un invendore... Stiamo parlando dell'inventore della prima locomotiva stradale. Esatto. Quindi diciamo che aveva un certo spessore alla sua epoca. L'edizia, oltre il morale, se meritava, Giovanni Petronio Russo. E quindi hanno organizzato gli abitanti del quartiere questa festicciola, hanno comprato i dolcini, ti hanno scritto questa... Hanno scritto questa lettera e tra l'altro hanno fatto pure una colletta. Una colletta? Una colletta e mi hanno dato qualcosina per... Ho capito, quindi ti hanno anche... hanno riconosciuto il tuo lavoro. Sì, sì, sì. Anche per il murales di Carmelo Saranitro. Anche di Saranitro. Alcanto che hai fatto quello di Carmelo Saranitro. E devo dire che, ancora prima, che gli altri nomi, oltre a Carmelo Saranitro, tu hai inserito gli altri quattro adraniti che sono stati deportati e quindi morti nel 1945, ancora prima che per la prima volta il comune mettesse la targa alla villa comunale, tu sei stato il primo ad ad ammettere i nomi degli altri delle altre vittime adanite appunto della follia fascista. Esatto. E questo, insomma, ti dà grande onore. Tutto accadeva nel periodo... Perché tu hai realizzato il murales a novembre, giusto? Quello su Saranitro. Noi ne abbiamo parlato dopo che era successo il fatto dell'atto di vandalismo, perché ne siamo venuti a conoscenza dopo. Perché, insomma, ce l'hai fatto sapere tu. Si parlava di Saranitro in quei giorni, l'atto di vandalismo. Tu ci hai contattato e, insomma, ci hai detto guardate che io ho fatto un murales su Carmelo Saranitro e io subito ti ho contattato e quindi per mettere a confronto giovani e giovani di Adano. Ci sono i giovani che prendono a pietrate il busto di Carmelo Saranitro e forse non sanno manco chi è. Però rimane l'atto gravissimo di violenza. E ci sono i giovani appunto come Fabrizio Nicolosi che dipingono su un muro appunto la figura di Carmelo Saranitro e ricordare un martire antifascista uno, insomma, che è morto per i valori e i suoi ideali di libertà e di pace. Tu hai detto all'inizio che tu fai il panettiere, giusto? Esatto. Hai il forno di famiglia con la tua famiglia. Quindi diciamo che sono nato lì dentro. Sì, sei nato nel forno. Senti, per te quindi questo rimane la tua professione, giusto? Quella del panettiere. Esatto. L'arte, la street art per te diventa solo un hobby o ti piacerebbe insomma praticarla a livello professionale? Si può fare a livello professionale? Cioè si può vivere facendo street art? Allora, il mio sogno sarebbe quello di poterlo fare come mestiere. Giustamente essendo arrivando poi a un certo livello anche a livello mondiale si dovrebbe un po' sacrificare la propria vita e viaggiare in tutto il mondo ma sarebbe una bella cosa. E ti piacerebbe una bella cosa? Sì, sì. Viaggiare, vedere nuovi posti, conoscere nuove agende sarebbe bello. Quindi speriamo che possa arrivare al mio... questo è il mio obiettivo il mio obiettivo è questo quindi speriamo che ci possa arrivare. Anche perché facendo questi murales questa tua arte insomma hai lavorato ogni tanto c'è qualche privato che ti chiamo per su commissione hai realizzato qualche lavoro? Eh sì, ogni tanto mi chiamano fortunatamente perché qualcosa entra ogni tanto. Lo fai anche per questo è giusto perché ma anche perché ci sono delle spese fare un murales costa. Sì all'inizio spendevo un sacco di soldi poi piano piano con il passere del tempo ti adatti quindi magari invece di stampare su carta su fogli alti 3-4 metri usi un proiettore ti aiuti con un proiettore e quindi piano piano le spese diciamo diminuiscono però sempre costa costa perché insomma ci sono hobby che non costano nulla ma se io decido di fare un grande murales è abbastanza a parte i costi che ci sono ma occorre anche il tempo giusto perché infatti sacrifico il mio sonno pomeridiano perché tu hai orari un po' particolari giusto lavorando al forno magari finisco la mattina vado direttamente in quel lavoro arrivato il pomeriggio finisco e appena arrivo a casa dormo fino all'indomani un po' di sacrificio ogni tanto bisogna farli ripagano ma ad realtà non ce ne sono altri altri giovani come te che fanno queste che io sappia street art no magari un po' di writing qualcosa così sì però street art no ecco qual è diciamo il rischio di tutto questo che poi qualcuno deturpa i muri dove sono stati realizzati questi murales possiamo dire che stanno resistendo sì fortunatamente piacciono alla villa comunale forse qualche segno è stato emesso sì ma si vede che sempre qualche ragazzino non è fatto non hanno fatto grandi danni insomma lo lanciamo un appello qua insomma cerchiamo di tutelare queste queste opere d'arte possiamo definire così diciamo io preferisco come richiamiamo messaggi questi questi messaggi insomma non imbrattate i muri perché imbrattando questi messaggi imbrattate anche ciò che lo rappresentano stiamo parlando di Peppino imbastato alla villa ci sono i murales di Peppino imbastato di Giovanni Falcone di Paolo Borsellino insomma ci vuole coraggio a imbrattare un'immagine con quanto queste rappresentano dicevi noi li facciamo in strada con la consapevolezza che possano si possono rovinare quindi magari non non ci dispiaciamo più di tanto però vederlo è intatto è ancora più piacevole certo ovviamente il riferimento vale anche per Giovanni Vedoni Russo e Carmelo Salanito i Morales quartiere Cappellone e lì diciamo che forse sono un po' più tutelati perché ci sono i residenti della zona per l'altro uno è l'ex custode del castello che oggi diventa custode del Morales di Petronio Russo quei Morales appartengono ai residenti della zona appartengono a tutti ovviamente però insomma è stato fatto per riqualificare un quartiere e noi oggi abbiamo invitato Fabrizio Nicolosi proprio a parte per incoraggiarlo per complimentarsi con lui per quello che ha fatto insomma perché vedete un ragazzo di 26 anni che sceglie dei personaggi importanti non solo quelli sul front antimafia Falcone Bosse di Impastato ma ha scelto ora in questi ultimi mesi di valorizzare anche figure locali importanti come Giovanni Petronio Russo e Carmelo Salanito soprattutto la scelta di Salanito in questi ultimi settimane ti ha dato molte soddisfazioni vero? tantissimo l'articolo sulla Sicilia è stato una delle soddisfazioni più grandi perché dici sono arrivato fino a lì a parte questo l'articolo te lo meritavo ci mancherebbe altro però io intendevo soddisfazione anche dal punto di vista personale io ti dico che ti sono giunti i complimenti anche della nuora di Carmelo Salanito mi ha dato anche un pensierino attraverso la famiglia Ciraldo Ciraldo mi ha regalato tre bottiglie di vino locali di vino locale prodotti appunto dalla famiglia Ciraldo ho parlato anche con una parente di Alfio Longo è venuta al panificio e ci siamo un po' confrontati sì queste sono soddisfazioni incontrare anche gli altri parenti Zappalà no purtroppo non abbiamo avuto contatti però mi hanno chiesto di te insomma davvero i parenti dei familiari erano molto contenti del fatto che tu hai inserito anche i loro nomi la nuora di Carmelo Salanito Maria Scavuzzo mi ha telefonato appositamente proprio per sapere notizie di questo ragazzo di Adrana che aveva scelto suo suogero Carmelo Salanito appunto come soggetto del Morales e mi ha telefonato perché non sapevo come contattarti appunto per farti i complimenti però so che poi ti hanno contattato anche altri quindi il sabato che quando c'è stato l'incontro a Palazzo Bianchi tu eri presente quindi la professoressa Scavuzzo ti ha mandato un riconoscimento da Roma attraverso il vino di Sabino Ciraldo tra l'altro dopo abbiamo parlato pure al telefono con la signora ci siamo un po' confrontati anche con la signora la signora era felicissima di aver ricordato anche perché è un dovere di artista e il mio dovere essendo appassionato di storia essendo artista mi sento in dovere di ricordare queste persone certamente va bene allora complimenti Fabrizio per tutto quello che fai continua così ad onorare anche la tua città ricordando i figli soprattutto illustri grazie per essere stato con noi Fabrizio grazie a voi ringrazio ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito buona serata grazie a voi Grazie a tutti